Gentili telespettatori, buona giornata. Roberto Speranza, il Ministro della Salute, non molla la presa su mascherine Green Pass. Dice presto per smantellare tutto, nonostante i dati siano in miglioramento, bisogna avere cautela. Il Covid dice non sparisce il 31 di marzo con la fine di emergenza. Il primo di aprile c'è ancora. Strumenti come pass e protezioni vanno conservati. Anche Abrignani del CTS dice è giusto aspettare. Mentre in gran parte dell'Europa tolgono immediatamente le restrizioni, i nostri governanti dicono che è giusto aspettare. Chi avrà ragione? La gran parte dei paesi orobei o Roberto Speranza? È giusto aspettare. O quel giusto aspettare c'è dietro una convenienza politica elettorale nel mantenere le restrizioni? Credo che ci sia una convenienza anche politica elettorale, ne abbiamo parlato in altri video. Grazie a tutti e arrivederci.